Aspettare che si allontanino i vari leds lo fanno. Aspettare che si allontanino i vari leds lo fanno. All'inizio della curva in vantaggio Tutson Perr davanti a Spritz, Gialapegno, Chappie Boy, Tarazette, Winston Wolfe, Just Art e Audu Yudu. Poco prima dell'ingresso di lettura prosegue in vantaggio Tutson Perr davanti a Spritz, Gialapegno e Chappie Bones. I cavalli entrano in dirittura. Con Tutson Perr in leggero vantaggio attaccato all'esterno da Chappie Bones. Passa Chappie Bones davanti a Tutson Perr, Audu Yudu, Gialapegno, Spritz e in vantaggio Chappie Bones davanti a Gialapegno. Tutson Perr, Audu Yudu e Winston Wolfe. Si stacca Chappie Bones davanti a Tutson Perr e Gialapegno. È facile Chappie Bones davanti a Tutson Perr e Gialapegno. Grazie. 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 Grazie a tutti